Grazie a tutti. Siamo parlati, il dottor Bardassina mi chiese cosa succede al 3 gennaio e io scherzando gli ho detto finiremo i panettoni che sono avanzati dal Natale e ci prepareremo per l'epifania per chi la festeggia. Nel senso che queste cose poi la data è quella ufficiale di ingresso ma sul mercato secondo me la rivoluzione, se vogliamo chiamarla così, o la trasformazione sarà un po' più lenta e per questo bisogna aspettarsi che alcune cose emergano piano piano nel tempo. Non parlo di tanto tempo, io immagino nell'arco di un anno. Faccio un esempio, tutte le novità sulla rendicontazione, il cliente non le vedrà il 3 gennaio, le vedrà alla fine del trimestre se non vado errato o del semestre se rimane come adesso, ma credo che sia già obbligatorio il trimestre. Cosa vuol dire? Vuol dire che piano piano stampa web perché la normativa PRIPS prevede che i kid, nuovi non i kid, siano disponibili sul web, la concorrenza, qualcuno dirà mai visto quanto stai pagando? E piano piano il mercato diventerà consapevole di quali sono i costi. Non è una mia affermazione ma se guardate l'ultima indagine di JFK per Consob, molti clienti pensano di pagare niente o comunque non sono consapevoli di quanto stanno pagando. Allora lì si introduce un pezzo che oggi nelle trattative è un po' più difficile che trovarlo, che è la parte in cui io riesco a coniugare il costo con il valore. E devo dire, ho qualche amico, diciamo, alle reti, qualche tempo fa un amico mi ha chiamato e mi ha detto scusami ma come facciamo noi a fare disclosure sui costi? Dico non è il problema della disclosure, il problema è di far capire al cliente qual è il valore che lui ha da questo tipo di costo. Perché non è che ristoranti cari non ci siano in Italia, anzi, una settimana fa la graduatoria Michelin sapete benissimo che Buttura vi chiede sui 400 euro a pasto, l'Enoteca Pinchiori credo che meno di 500 non vi chieda, eppure sono ristoranti pieni. Il che vuol dire che il cliente se percepisce il valore non ha problemi a pagare e mi ricollego a quello che diceva Marco. Quindi il prezzo è un tema assolutamente poco significativo se però non viene collegato, diventa significativo nel momento in cui non viene collegato il valore. E qui c'è un pezzettino che dobbiamo fare. Come cambiano i comportamenti del banker? Come cambiano i comportamenti degli intermediari in generale? Marco prima parlava di product governance. Bisogna decidere, sapete che la prima cosa che è stata notata è che esiste un target negativo, cioè a chi non vendo io, a chi non ha dato quel prodotto o quel servizio. Allora è una scelta difficile, ma un imprenditore, diciamo che ha l'idea chiare, deve decidere cosa non fa. Ad esempio, faccio un esempio su di noi, noi abbiamo deciso quando abbiamo cominciato a lavorare che i clienti sotto i 100.000 euro non andavano bene per noi, ma perché non siamo in grado di dare valore aggiunto. Quando uno ha 100.000 euro in mano non ha problemi di passaggio generazionale, non ha problemi di asset allocation o non può comprare un'obbligazione da 100.000 euro perché concentrebbe il patrimonio. Quindi è una situazione molto più semplice e quello è il target che a mio avviso finirà sul web. Quando parliamo di web e di robot advisor, un po' sorrido rispetto a questa cosa, perché naturalmente la distribuzione del robot advisor, come in tutti i sistemi web, va a finire su chi non ha bisogno di consulenza. Mentre chi ha bisogno di consulenza, robot advisor sarà un tema ma diventerà robot advisor for advisor. Il target è importante, pensate a un cliente da 100.000 euro, se paga un punto e mezzo, genera 1.500 euro di ricavi. Supponendo che il banker ne prenda il 40% o il 50% siamo a 750 euro l'anno. Non c'è valore né per il distributore né per il cliente e quindi è bene che vadano su sistemi di distribuzione a basso costo, molto standardizzati. Il che può creare un problema, c'è una compressione dei margini, come diceva il dottor Gian Ferrara, però se pensate che in Italia ci sono circa 4.000 miliardi di asset non immobiliari, di questi 4.000 miliardi, poco meno, 3.800 miliardi, il 10% detiene il 50% di questo, circa 2.000 miliardi sono in mano a un 10% delle famiglie italiane, stiamo parlando di 2.700.000 di clienti. Ora la domanda è, com'è il sistema reti a solo il 10% di tutto questo? La risposta è che probabilmente non abbiamo ancora trovato il modello giusto, per cui il cliente, lo vedete anche sull'indagine Consob, dice che non mi servo di un advisor perché non ne ho bisogno, quindi non c'è consapevolezza. Allora, secondo me l'evoluzione MIFI 2 è proprio un passaggio verso una compressione di cavi, una maggiore adeguatezza, alla ricerca di quel 90% che ancora non è, è nelle banche, fa da solo, non ha ancora maturato la percezione di valore verso l'advisor. Quindi secondo me la MIFI 2 è una grande opportunità, si manifesterà nell'arco di un anno, un anno e mezzo, ma sapendo interpretare bene c'è un potenziale straordinario in Italia da questo punto di vista, perché se pensate a quanto siamo ricchi, lo so che è difficile dirlo dopo la crisi, ma quello che si è compresso sono i redditi, quindi non gli stock, gli stock continuano ad essere molto interessanti anche dall'estero. Per cui se immaginate questo, la MIFI 2 si dà l'opportunità di avvicinarci a quel mercato e superare un modello che forse si trascina un po' di anzianità inerziale. Molto interessante. Lei parlava appunto, dottor Sanna, di una maggiore consapevolezza dei costi da parte del mercato. Allora al dottor Bellingeri chiederei, visto che sta arrivando il momento degli ETF, nel senso, sappiamo che i costi sono diversi tra un ETF e un prodotto gestito attivo. Il MIFI 2 porta, agevola il percorso per chi svolge la sua attività. Allora, magari di ETF ne parliamo un attimo dopo, nel senso che mi fa piacere sicuramente, però volevo un attimo commentare la discussione finora perché l'ho trovata molto interessante. Allora, io partirei da quanto detto dal collega Gianferrara, che mi trova, no, forse da Marco Caldana quando dice, e Antonio Sanna quando dice, la MIFI è un'opportunità enorme per tutti, mi trovo assolutamente d'accordo. Quindi primo punto. Secondo punto, sono assolutamente d'accordo con i due scenari che ha delineato il dottor Gianferrara prima. Li volevo commentare un attimo. Allora, il primo, il consolidamento. Quindi direi che è necessario vedere da parte di tutti i players un aumento delle masse. E quando dico players parlo di sia società ma anche di singolo banker perché sono convinto che i costi aumenteranno e i margini diminuiranno. Se io riesco ad avere meno margine per unità, diciamo, di consulenza, ma più unità, il mio margine, quindi le mie revenue, possono anche essere superiori perché ci sono tantissime persone che non sono servite. Quindi il primo punto è questo, riduzione dei margini e costi, però anche aumento dei volumi dalla parte delle società e dalla parte anche del singolo banker. E questo è importante. Il costo del servizio aumenta, devono aumentare anche i servizi. Servizi che, e qui sono parzialmente d'accordo con la dottoressa Usai, non è sufficiente dal mio punto di vista la formazione in quanto penso che i bankers in Italia siano già molto formati e passino molte giornate in aula con le varie società prodotte, con le società esterne, con le società stesse. Quindi sì, è necessario aumentare la formazione, ma è necessario aumentare i servizi che vengono erogati al cliente. E per il cliente di fascia alta questo è possibile, in quanto parlavamo di passaggio generazionale o servizi collaterali, quindi art advisor e quant'altro, col cliente private lo posso fare, con il cliente affluent no, perché quello che si è verificato in Inghilterra con l'RDR è che i clienti di fascia bassa non sono stati più serviti. E quindi mentre il cliente di fascia alta io posso aumentare il servizio stesso. Per quanto riguarda invece il punto dell'aumento delle gestioni patrimoniali, di nuovo sono assolutamente d'accordo, quindi aumenterà le gestioni patrimoniali che a mio modo di vedere sono un servizio di consulenza più efficiente, sia a livello fiscale che anche a livello operativo. È necessario creare più linee di gestione patrimoniale, questo grazie al digitale, e quindi io penso che questo aiuti a creare più linee. E qua sono un po' in disaccordo con Marco Aldana quando dice allora sicuramente il valore va pagato, quindi value for money. Sui rebates sono parzialmente d'accordo in quanto può portare delle distruzioni nel momento in cui costruisco il portafoglio, mentre nelle gestioni patrimoniali che sono neutrali a livello di commissioni io posso inserire ad esempio fondi, ETF quali cito, e titoli e il cliente paga la stessa fee, esattamente come viene la consulenza Fiolli. Se io ho un modello distributivo invece basato sui rebates tendo a inserire più fondi comuni, quasi il 100% di fondi comuni e non sempre si tratta della scelta corretta. Quindi queste sono due considerazioni su quanto detto. Sugli ETF poi magari ne parliamo. No, infatti benissimo, infatti la ringrazio anche per averci dato una visione ancora più estesa e poi volentieri parleremo anche degli ETF. E se io passerei invece all'altra domanda della giornata che è come cambierà la relazione tra banker e cliente e come cambierà di conseguenza l'offerta di prodotti per i clienti. Questa è un'altra delle domande che fanno parte di quella famosa telefonata col dottor Sanna, no? E era proprio come cambierà la relazione tra banker e cliente e anche qui il dottor Sanna ha una visione un po' particolare. Dunque, allora, non posso esimermi. Emanuele ha sollevato una palla, io la prendo al volo. Allora, sul tema delle opportunità, non è solo l'unità cliente, guadagno meno per unità prodotto, quindi il fondo che può costare 4% o fate quello strumento, non ce l'ho con i fondi, non può più esistere. Però uno dice, allora guadagnerò meno. E no, perché sullo stesso cliente, se voi fate delle statistiche, voi avete grosso modo il 10%. Supponete di avere approfondito la relazione, eccetera, eccetera, avete il 40%, il 50%, ma che un cliente dia tutto, oggi al sistema fondi è abbastanza improbabile. Voi direte teoria, lì c'è un signore, poi se volete ve lo presento, che è arrivato in SCM, praticamente alla fondazione, aveva 8 milioni di portafoglio, oggi ne ha 60, e se andate a vedere la crescita del numero dei clienti, non è proporzionale al portafoglio. Perché? Con un approccio complessivo io prendo tutta la visione del patrimonio del cliente, anche quello che lui ha deciso di tenere presso un'altra banca. Per cui se si arriva a questo tipo di modello, il mio approccio non è più parziale, io vedo solo il pezzettino dei fondi, ma guardo complessivamente tutto quanto. E se ci pensate è un valore aggiunto importante, perché quando il cliente segmenta per banca o per gestore, nessuno dei gestori vede quello che fanno gli altri. Allora, il primo tema è questo qui, cioè bisogna fare uno sforzo e sganciarsi dalla relazione con il prodotto, noi non siamo il prodotto che vendiamo, e cominciare a mettere il cliente al centro. Voi direte, beh, l'abbiamo sempre fatto, però i fatti non lo dimostrano, perché vi ripeto, c'è una grande opportunità proprio sul fatto che una buona parte delle masse è ancora diretta in banca, e con i clienti che sono convinti di poter fare ancora da soli. Quindi vedere tutto il patrimonio significa anche accettare che ci siano altri player, non è un segreto che BlackRock ha adottato questo modello ormai da qualche anno, ha una piattaforma informatica digitale dove caricano tutto il patrimonio del cliente e magari i prodotti di casa c'è un 25%, il resto è fuori. Ma perché hanno adottato questo tipo di modello? Perché questo modello dal punto di vista pratico dà la possibilità al banker di vedere anche il resto del cliente e fargli consulenza, e poi ovviamente poi è una fi di consulenza su tutto quello che guarda. Quindi questo è il punto centrale, secondo me, della Minifid. Il prodotto perde significato in termini di vendita, poi ci sono degli strumenti con un altro paio di mani che io sono assolutamente d'accordo con le gestioni, noi li utilizziamo perché gli ETF in consulenza sono assolutamente inefficienti dal punto di vista fiscale in Italia, per cui messo dentro un contenitore efficiente che è la gestione, il cliente ha anche un beneficio fiscale importante, quindi non sto parlando di... parlo proprio di prodotto. Dalla performance, devo sganciare da tutti questi parametri che in una maturazione della relazione non hanno più un significato per il cliente. La più grande difficoltà, secondo me, che incontreremo è quella di far ragionare il cliente in relazione agli obiettivi. Sì, in relazione agli obiettivi abbiamo sempre ragionato. Non è così, perché se voi guardate i clienti che vi dicono che hanno un orizzonte temporale a dieci anni, poi dopo tre mesi vi chiedono quanto fa il portafoglio. E allora questo tipo di relazione in qualche modo deve essere rifocalizzata sull'obiettivo, altrimenti non se ne esce, il cliente comincia a continuare a guardare le performance, ho un cliente di 75 anni a cui non riesco assolutamente a spiegare questo fatto, lui ogni tre mesi arriva e dice quanto abbiamo fatto col portafoglio. So che non posso cambiargli la testa, ma non è il tipo di relazione che io auspico diventi invece post mi fi due. Allora, l'obiettivo del cliente, faccio un esempio personale, io ho due figli piccoli, si è 9 anni, pensando al momento in cui loro andano all'università, io più o meno comincio ad avere 65 anni, quindi penso alcuni flussi di cassa li devo spostare da adesso a là. Stiamo parlando dell'università dei miei figli, qual è il mio profilo di rischio? Ve lo dico io, zero. Non voglio rischiare niente, perché stiamo parlando dei futuri dei miei figli, dell'opzione valono all'università. Se voi mi proponete invece con del denaro che mi può servire a me per la pensione, di fare un future sul DAX, io quel profilo lì, in quell'ambito ce l'ho. Per cui come faccio a dare servizio al cliente se nella relazione io non riesco a capire con precisione quali sono i suoi obiettivi? Come faccio a tarare la product governance se non riesco a capire qual è l'orizzonte temporale, ma quello reale del cliente? Allora, se per i miei figli, ora metto una cifra, mi servono 100 fra 10 anni, cosa mi interessa se fa 2 o 5 o 7? Se fa 40 al portafoglio, quest'anno evidentemente abbasso ancora il profilo di rischio perché a me servono 200. Scusate, ho detto 100. Ecco, in questo senso la relazione cambia profondamente e la tecnica, perdonatemi, prende un po' meno sopravvento rispetto a quello che è successo negli ultimi anni perché se guardate questo settore è stato un settore altamente relazionale sulla fiducia personale all'inizio perché si diceva ai clienti togli i soldi dai titoli di Stato che andavano il 10, il 12 e metti nei fondi comuni. Poi tecnica, asset rotation, bilanciamenti di portafoglio, decidete voi cose, però trascurando poi quello che è il cliente, qual è la sua vita. A questo punto dobbiamo fare un passo in avanti e la relazione del banker deve tornare chiamiamolo così alle origini, nel senso cambia il contenuto ma deve essere un po' più di accompagnamento del cliente verso la consapevolezza di quello che stiamo facendo. Io sono certo, lo vediamo, che quando il cliente capisce non è più un problema di prezzo, il prezzo non è un tema. e il prezzo diventa un tema quando performa negativamente e gli si chiedono i soldi. Allora lì comincia a diventare... Ma nel momento in cui percepisce il valore, nel momento in cui si rende conto che lui si sta avvicinando ad alcuni obiettivi, in mezzo c'è tutta la consapevolezza della protezione, dei ricavi, del reddito, insomma ha una visione complessiva dei suoi rischi e di cosa sta facendo, difficilmente il cliente vi misura solo sulle performance. La performance è importante ma non diventa tutto. Misura anche quanto lui è vicino a quell'obiettivo. È molto più difficile, veramente molto più difficile perché prendere un signore che dice quanto mi dai e portarlo a ragionare sulla famiglia, sulla pensione, la gente oggi non ci pensa. Io ho 5 milioni da parte, sì ma quei 5 milioni tu vuoi spenderli perché magari camperai fino a 100 anni. Mio padre era 90 di anni, è del 28. Quindi insomma voglio dire non sto parlando di cose... Stiamo parlando 90 anni fa, pensate se proiettiamo troviamo persone che ne camperanno tranquillamente fino a 95-100 anni e qual è la pianificazione quando mio padre è andato in pensione a 65 anni e ne ha fatti 25 in pensione se non avesse avuto la pensione che si prendeva a quei tempi avrebbe dovuto risparmiare. Ma sapete quanto per integrare il suo reddito? Allora questi sono i temi. Allora la consapevolezza del cliente passa attraverso di noi perché il cliente fa il medico, fa il professionista, fa l'avvocato, decidete voi che cosa. Ed è completamente ignorante, lo dimostra ancora l'indagine di JFK, sulla parte finanza. Chi c'è fra noi, fra questi signori e la loro vita in termini di obiettivi? Siamo noi. Prima lo capiamo e vedrete che a Mifid 2 diventa... cioè, come dire, surfiamo sulle onde. Sono state chiamate in caso agli ETF nella risposta del dottor Sanna. Magari qui vuole intervenire sul merito, diciamo. No, solo una puntualizzazione tecnica poi magari vado avanti così vi faccio velocemente rispondere alla domanda. Gli ETF sono totalmente inefficienti diciamo in consulenza perché essendo fondi, quindi così come i fondi, non riescono a fare minus e plus valenze. Mentre nelle gestioni patrimoniali questo a livello annuale può essere fatto. Confermo. Mi ricollego però al discorso che è un punto toccato per me molto importante che è quello dell'amministrato. Quindi i titoli li posso usare e quindi posso anche compensare le minus e le plus valenze ma in amministrato i suoi titoli non guadagno niente fondamentalmente. Quando si valuta io l'ho visto nel settore a porte chiuse certi parametri se la rete è gestita bene o no parlo di rete poi parlo anche di private banking che per me è un po' diversa la questione. Si chiede quanto gestito quanto fatto 100 il patrimonio che c'è in quella rete è ingestito e quanto in amministrato. se la percentuale è elevata vuol dire che la rete è gestita bene no? Ho il 60% di fondi gestito perché ho le commissioni ricorrenti. Giusto? Questo è un parametro. Per me questo è un punto di partenza ed arrivo errato. Perché dovremmo ragionare sul 100% del patrimonio del cliente. cioè fatto 100 io come rete dovrei tendere a guadagnare su 100 su 100 lire che ha che ha il cliente e come può come posso farlo tramite la consulenza la consulenza parcella fioli su tutto il portafoglio. Quindi dal mio punto di vista il private banking dovrebbe tendere a forme di gestione patrimoniale che quantomeno una soluzione ponte mi vuole vedere anche più efficiente con questo altro discorso. sicuramente verso una consulenza a parcella come viene negli Stati Uniti dove la fi che viene applicata che può essere più o meno alta nessuno sta dicendo di diminuire la fi viene applicata sul 100% del patrimonio e in quel caso anche i conflitti di interesse si minimizzano ed è flat. Se io ho un cliente affluent o di fascia bassa posso dargli un portafoglino di fondi è giusto forse la soluzione è ideale ma se io sono un private banking mi devo distinguere da una rete tradizionale non posso perché io quello che sto vedendo dall'esterno è che la proposition del private banker o di un promotore finanziario che segue un altro tipo di cliente è molto simile in Italia sono più o meno sempre gli stessi fondi che poi sono anche soggetti a moda quindi posso anche dire i nomi delle società che un anno vanno quell'anno dopo vanno altre e alla fine l'offerta è uguale. Il private banking deve passare per prima poi dovrebbero farlo anche tutte le reti dal mio punto di vista sul Fiolli perché riuscirebbe a avere revenue sul 100% del patrimonio in consulenza e poi seminerebbero i conflitti di interesse quindi per me è un po' questa che deve essere la relazione è una relazione di modello diciamo. Continuiamo con la proposta con l'offerta e anche questa volta mi sposto a riportare il microfono al dottor Caldana perché è stato il primo a parlare delle sfide e adesso non è più il primo a parlare di soluzioni a queste sfide perché qualcosa abbiamo già sentito soprattutto riguardo alle gestioni patrimoniali però ecco come può un private distinguere la sua offerta? Allora vi racconto questa piccola notizia si è nascosta a Lussemburgo c'è stato un convegno di Google una persona di Google ha parlato e ha detto che in Lussemburgo nei prossimi italiani assumeranno 80.000 persone probabilmente se è sbagliato ha aggiunto uno zero anche perché è un numero molto importante però è interessante perché cito questa informazione perché oggi il più grande competitor del mondo finanziario è Google ha tutte le informazioni del cliente sa tutto del cliente quando noi salviamo delle informazioni su Google Drive se lo può leggere sa dove ci muoviamo voi sapete interessanti su Maps avete la cronologia per cui vi tracciano ognuno di noi sanno dove siamo andati che abbiamo visto cosa abbiamo fatto quanto spendiamo quanto guadagniamo perché è stato conto lo vediamo ok e per dire che cosa perché la tecnologia è il futuro tutti siamo d'accordo sulla siamo qui stiamo riscrivendo su Fiori o gestioni patrimoniali penso che la maggior parte del panel sia più a favore delle gestioni patrimoniali io lo confermo nel senso che comunque come provider industriale noi abbiamo una forte richiesta di gestioni patrimoniali da parte di soggetti istituzionali che vogliono comunque assorzare a noi una parte dei portafogli dove forniamo i portafogli modelli perché c'è una grande richiesta di gestioni patrimoniali come risolviamo il problema automatizzandole cioè dobbiamo comunque cercare di andare a utilizzare la tecnologia per far sì che ci sia una maggiore combinazione cioè un'interazione tra il cliente e l'intermediario no? D'altra parte la tecnologia serve per ottimizzare i portafogli e i processi perché abbastando i costi abbiamo un problema di redditività per cui chiaramente dobbiamo separare diciamo l'intervento umano il duro è meno possibile e andare più verso i servizi al cliente dove c'è valore aggiunto per cui tecnologia serve per ottimizzare i processi serve per avere un rapporto più stretto con il cliente e questa mattina prima di venire qui io e il mio collega abbiamo incontrato una persona con cui collaboriamo e ci ha presentato una fantastica application che serve a profilare il cliente e ci raccontava che abbiamo fatto così al bar guardando in 5 minuti molto divertente perché era si usava drag and drop per cui spostavo hai una macchina hai una casa quanto guadagni e poi faceva in 5 minuti sono stato profilato abbastanza bene ok perché basava su una intelligenza artificiale dietro con 7 domande mi ha profilato e poi parlava invece di profilazione fatta su internet con 55 domande ok io credo io credo che il futuro sia quello di interagire con il cliente in modo più facile possibile più user friendly con dell'application e cercare di risolvere il problema del tuo cliente che a 5 milioni ogni volta ti viene a chiedere quanto fatto cercando di spostare l'attenzione su degli aspetti più diciamo tecnologici questo secondo me è un aspetto importante poi come gruppo che come cosa è la nostra cosa è la nostra esperienza gestione patrimoniale soprattutto gestione patrimoniale in polizza assicurativa perché questo è un aspetto che comunque rende aumenta l'efficacia fiscale della gestione patrimoniale perché questo mi permette comunque di compensare di direzionare l'aspetto del capital gain in un futuro permetto anche di gestire il passaggio generazionale perché sempre di più la clientela è di fascia diciamo più anziana chi ha il denaro oggi si va verso diciamo la fascia più anziana per cui bisogna pensare del passaggio generazionale e l'aspetto diciamo di ulteriore è il robot for advisor o robot management questi sono gli aspetti secondo me importanti per cui noi abbiamo sviluppato gestione patrimoniali polizia di assicurazione su cui comunque si inseriscono le gestioni patrimoniali che possono essere anche fatte come ETF per cui nulla osta diciamo oggi a erogare ai clienti delle polizie di assicurazione di ramo terzo o ramo misto o ramo primo o ramo terzo con sottostante gestioni patrimoniali efficienti robotizzate fatte anche su ETF per cui ci sono diverse soluzioni che sono assolutamente compliant e che rispondono alle gerenze del cliente questi sono un po' i temi secondo me importanti però attenzione Google è il nostro più grande amico o amico questo può bisogna capirlo nel futuro passerei la parola allora a Gian Ferrara sempre molto legato a quanto ci siamo detti finora parliamo invece di modelli che possono essere applicati sempre tornando alla vostra esperienza internazionale insomma cosa vede nella sfera sì allora per quanto riguarda i modelli penso che faccia riferimento ai modelli di consulenza ok perché abbiamo parlato diciamo modelli di consulenza quindi modelli di relazione tra banker e clienti esatto allora per quanto riguarda la consulenza il modo nel quale lo vedo io è di fatto che una lenta e progressiva diffusione della consulenza indipendente quella che si può chiamare anche fee only quindi vuol dire che l'attore economico non percepisce retrocessioni ma percepisce soltanto una fee che viene pagata dal cliente ma anche un potenziamento della guided architecture quindi adesso andiamo un po' a tornare su questi due concetti separatamente allora la consulenza indipendente io penso che sia effettivamente il futuro sono d'accordo quindi con i colleghi che si sono del forum penso sicuramente è il futuro si è cominciata a imporre nelle parti nord dell'Europa per il momento e piano piano si diffonderà anche da noi in Italia per il momento ci sono due o tre attori già che si sono pronunciati che sono presenti sul campo della consulenza indipendente in genere lo fanno per il momento sulla fascia alta dei clienti e poi piano piano sicuramente si democratizzerà perché piano piano perché la consulenza indipendente secondo MIFID2 presenta ugualmente dei vincoli organizzativi perché tipicamente un banker non può fare della consulenza indipendente quindi non indipendente nello stesso tempo dobbiamo separare l'aspetto organizzativo dei due e questo richiede effettivamente un po' di tempo un po' di investimenti per rivedere l'organizzazione in modo diverso però attendere è lì che stiamo andando allora aspettando di arrivare sulla consulenza indipendente rimaniamo sulla consulenza non indipendente e la consulenza non indipendente funziona dicendo che sì percepiamo delle retrocessioni da parte di un numero di controparti con il quale lavoriamo un numero di controparti abbastanza ristretto ora questa che si chiama guided architecture perché vedete è un'architettura che viene guidata su un numero di controparti ristretto per me è qualcosa che si potenzierà prima di tutto non vedo connotazioni negative il fatto di dire è un numero di controparti ristretto non vuol dire necessariamente soltanto che c'è una partnership laddove la banca percepisce le retrocessioni dall'attore vuol dire anche che non si accettano qualsiasi società di gestione vuol dire che c'è una due diligence che viene fatta finanziaria e operativa prima di decidere di passare un partnership con la società in questione quindi la guided architecture presenta comunque anche dei benefici io quello che penso è che aspettando che la consulenza indipendente si sviluppi ci sarà un approfondimento della guided architecture nel senso che coloro che hanno un certo numero di controparti securizzate nel senso che fanno l'oggetto di una diligenza approfondita aumenteranno il numero delle controparti da un punto di vista più qualitativo e qui mi riallaccio a quello che diceva giustamente il dottor Sanna prima non si ragiona più nel mondo della consulenza come una consulenza a 100% nel senso io faccio consulenza su un conto su un portafoglio io faccio una consulenza rispetto ai progetti del cliente quindi ci può essere un progetto che prendiamo l'esempio quello di finanziare gli studi che anche questo è un bisogno che diventerà sempre più pressante per noi tutti i genitori può essere il pensionamento che effettivamente è molto sottovalutato oggi come oggi in Italia si risparmia molto meno dei paesi nordici dell'Europa per preparare il pensionamento però ci arriviamo e quindi è vero che un progetto investimenti per preparare la pensione il consulente non ragiona nello stesso modo che per finanziare gli studi dei ragazzi tra 5 anni quindi questo è veramente andarsi a calare nella realtà del cliente e metterlo al centro quindi vedete come questa evoluzione mi fido non arriva da solo arriva in un campo digitale dove il cliente sempre di più si abitua a sedersi al posto del conduttore è lui che guida è lui che guida quello che guida non sono i suoi progetti quindi prima di tutto dobbiamo sentire quali sono i suoi progetti e solo dopo dobbiamo noi posizionarci in materia di consulenza per permettergli di realizzarli esce esce poi da tutto quello che ci siamo detti finora anche un elemento che è quello del giustificare i costi tra le righe di quello che ci siamo detti e allora dover giustificare i costi vuol dire anche avere dei rendimenti delle performance tali che quei costi giustifichino allora chiedo alla dottoressa Usai visto che in precedenza parlavamo appunto delle tematiche SRI in realtà mi sembra che ci sia almeno dal canto mio ho sempre notato una certa confusione sui numeri che vengono che vengono comunicati su questa tematica nel senso abbiamo detto all'inizio può essere una cosa che va ad aumentare l'offerta del banker però c'è sempre stata confusione sulle performance perché mi ricordo da uno studio all'altro le cose cambiano c'è un modo per mettere una parola definitiva su questo tema sì mi ricollego anche un po' a quello che è emerso durante questa discussione prima di rispondere alla sua domanda allora si è parlato molto sia il dottor Sanna che il dottor Gianferrara parlavano di riconoscere gli obiettivi del cliente penso anche che gli obiettivi del cliente possono cambiare possono evolversi sappiamo benissimo che ora la ricchezza è concentrata nelle mani della popolazione più avanti con l'età della popolazione anziana però è anche vero che bisogna pensare un po' al ricambio generazionale nel senso che queste persone anziane lasceranno diciamo la buona parte di questo patrimonio ai propri eredi tendenzialmente i propri eredi sono i millennials che è quella fascia d'età di popolazione che va dai 15 ai 35 anni e degli studi dicono che questa fascia d'età che va dai 15 ai 35 anni è una fascia d'età che comprende appunto delle persone che sono molto molto sensibili a delle tematiche particolari le tematiche legate appunto all'innovazione sono persone che vivono diciamo con un concetto di digitalizzazione molto molto marcato ma sono anche attenti diciamo alle tematiche più legate all'ambiente più legate al sociale più legate a delle buone governance e effettivamente il tema della finanza socialmente responsabile secondo noi secondo Candria ma deve essere all'interno diciamo di un'offerta prodotti se non altro per cercare di soddisfare le esigenze e gli obiettivi che probabilmente le generazioni future che entreranno in possesso di patrimoni importanti andranno a richiedere sul discorso appunto legato alle performance degli investimenti socialmente responsabili beh sicuramente è un tema importante anche qua si ricade un po' in quello che si diceva all'inizio c'è un pregiudizio verso questi investimenti proprio perché non si conoscono molto bene si fa un po' di confusione e molto spesso appunto si giunge alla conclusione che ah vabbè faccio un investimento socialmente responsabile ok investo parte del mio denaro però so che non avrò un ritorno finanziario lo faccio giusto perché voglio in qualche modo cercare di creare valore per la società però so già che non avrò nessun tipo di rendimento di ritorno finanziario ma in realtà gli studi non dimostrano che diciamo gli investimenti socialmente responsabili abbiano dei rendimenti nettamente inferiori agli investimenti gestiti con approcci più tradizionali dato che non voglio appunto che le mie rimangano semplicemente delle affermazioni fino a se stesse ho chiesto gentilmente a dottor Barlassina se potevo proiettare delle slide su questo tema credo sia questa esatto questa è la prima delle due che ho portato sulle performance ci tengo a precisare che Morgan Stanley Index ha portato avanti delle ricerche molto approfondite sul discorso legato alle performance e rendimenti degli investimenti socialmente responsabili qui c'è solo una parte di questa di questa ricerca per questioni di tempo allora innanzitutto è stato fatto un confronto su dieci anni tra l'MCI KLD400 social index e lo standard MPUR 500 entrambi sono rappresentativi del mercato azionario americano se considerate appunto che la linea blu è rappresentata dall'MCI social index mentre la linea arancia è rappresentata appunto dallo standard MPUR 500 periodo di riferimento è primo novembre 2007 31 10 2017 cosa possiamo notare beh possiamo notare che in realtà diciamo l'indice che rappresenta il mercato americano l'indice socialmente responsabile che rappresenta il mercato azionario americano ha fatto meglio rispetto all'indice che rappresenta il mercato americano tradizionale ovvero lo standard MPUR 500 ma oltrepassiamo diciamo il confine americano e consideriamo a livello globale come sono andati gli investimenti socialmente responsabili e quindi Morgan Stanley Index ha fatto un'analisi tra quello che è stato l'andamento dell'MCI World quindi l'indice tradizionale rappresentativo del mercato azionario globale rispetto all'MCI World SRI che è rappresentato appunto dalla linea verde e anche in questo caso possiamo confermare che gli investimenti socialmente responsabili a livello azionario globale hanno realizzato un rendimento migliore rispetto all'indice diciamo MCI World tradizionale relativa agli investimenti tradizionali ma questo tipo di analisi come vi dicevo fa parte di un'analisi ben più ampia che insomma vi invito a leggere tra l'altro è un'analisi che è contenuta nel quarto modulo della piattaforma digitale che vi anticipavo prima una cosa una cosa importante è che la stessa tipo di analisi si può fare per i fondi bilanciati per i fondi flessibili e anche per i fondi obbligazionali questo perché oramai la finanza socialmente responsabile o meglio gli investimenti socialmente responsabili coprono tutte le asset class quindi mentre diciamo rimane il pregiudizio che gli investimenti socialmente responsabili possano considerare solo e sicuramente gli asset class azionari in realtà non è così gli approcci SRAI moderni possono diciamo entrare a far parte di qualsiasi tipo di asset class se ho ancora un minuto ok perfetto scusate veramente la voce sembra che sto morendo ma in realtà sono sono semplicemente affetta da un problema alla gola spero momentaneo sempre all'interno diciamo della di questo modulo della piattaforma formativa che Candre appunto ha lanciato un mese fa trovate questa questa analisi di 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 morga stalli che oltre diciamo a far vedere i risultati di questi studi empirici va in qualche modo anche a fare un'analisi considerando diciamo dati di performance di oltre 10.000 fondi comuni aperti e cosa sono stati questi risultati come si sono articolati questi risultati beh allora che gli investimenti nella sostenibilità hanno spesso superato la performance di comparabili investimenti tradizionali e l'abbiamo visto poco fa con appunto l'analisi degli indici dell'andamento degli indici i fondi sostenibili azionari hanno riportato dei rendimenti mediani pari o superiori e una volatilità pari o inferiore a quella dei fondi tradizionali nel 64% dei periodi esaminati quindi anche qua importante perché con la finanza socialmente responsabile non solo vado a creare valore finanziario ma vado anche a contenere il rischio la volatilità dei portafogli stessi quindi probabilmente in un asset allocation ideale una parte di questo tipo di investimenti potrebbe essere considerata perché proprio potrebbe portare del valore aggiunto tra l'altro un altro aspetto importante e poi mi taccio è legato al fatto che sempre sulla base di questi studi portati avanti da MCI Index si è riscontrata una relazione positiva tra l'investimento di un'impresa nella sostenibilità e la sua quotazione azionaria piuttosto che performance operativa anche questo è un aspetto importantissimo nel senso che una società che si comporta tra virgolette bene quindi rispetta diciamo certe tematiche ambientali sociali e di governance ha nel medio e lungo periodo un riflesso positivo nella sua quotazione azionaria e anche diciamo per quel che riguarda il miglioramento della diciamo così della parte più operativa grazie a tutti